Il giorno dopo la firma per l'accordo di programma per il rilancio dell'area di crisi industriale semplice di Massa Carrara, con i 20 milioni a sostegno degli investimenti delle aziende e i 30 in supporto al reddito dei lavoratori rimasti senza cassa integrazione, il presidente della regione toscana Enrico Rossi è arrivato a Massa per affrontare situazioni difficili come quella della Costa Mauro, dell'NCA e della Rational, ma anche per l'inaugurazione della nuova linea di produzione della BHG e Nuovo Pignone. Prima tappa l'incontro con i sindacati sulle tre vertenze, per la Costa Mauro se ci saranno le condizioni la regione concederà l'autorizzazione integrata ambientale. Allo stesso tempo con la provincia e con il comune di Aulla voglio prima di ogni risultato sulla valutazione di autorizzazione integrata ambientale e che i tecnici della regione faranno firmare un impegno che preveda con tempi precisi la delocalizzazione di quell'azienda che ovviamente troverà in ogni caso le sue opportunità di crescita e di sviluppo non tanto lì quanto da un'altra parte. Per quanto riguarda l'NCA Rossi scriverà al Ministero dello Sviluppo Economico perché nell'ottobre 2016, proprio in un incontro al Mise, l'azienda dichiarò che non ci sarebbero stati di esuberi. Quanto alla Rational, il supporto ai lavoratori arriverà dopo la costituzione della cooperativa. Rossi ha poi partecipato al taglio del nastro della nuova linea di produzione della BHG e Nuovo Pignone, risultato degli investimenti per 12 milioni di euro effettuati dal gruppo. Il percorso di trasformazione verso l'impresa 4.0, già realizzato sul stabilimento di Firenze, è in corsa anche questo stabilimento. Quello che abbiamo celebrato oggi è un tassello di questo percorso, ma la strada non finisce. Andiamo avanti. Dal 2012 ad oggi l'occupazione in GE è quasi raddoppiata, passando dalle 370 alle 720 unità, con un lavoro in diretto che arriva oggi a 2.000 addetti. Quindi è una roba fortissima per questa zona che è stata martoriata dalla crisi e la presenza di questo stabilimento così forte garantisce davvero una tenuta che altrimenti credo purtroppo non ci sarebbe stata. La nuova linea di produzione con l'asilio di nuove tecnologie di automazione permetterà di incrementare produttività ed efficienza con una riduzione dei tempi di realizzazione dei pannelli del 40%. Grazie.